Sì, grazie per l'assemblea di Glacch! Tutto questo? L'altro io! Sì! Sì! L'altro io ti capisco! Sì! 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 Guardate! Sì! 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 È strastonata! È strastonata, porca bro! Sì! Ok, non sta spiegando fu! Sì! 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 No! Io ho a fare il du! Nattra! Che neporque! Che neporque il fuoco! Sì! Si! Dangere! . . . si guarda 2 si guarda 2 si guarda 2 si guarda 2 lo sta baaa guarda com'è scus PLV guarda com'è che c'ha questo cosa mi va portare col primo quest'apparecchi nuovo guardavo guardi che carina quanto un piccolino quanto un piccolino Ehi, c'è un peccato fauna. Pali. Ecco. Dove di vedere. Vabbè direi di poterla finire qui.